E siamo partiti a cannone con un nuovo titolo Questo non è gameplay Vabbè, vediamo Vediamo zombie, o morti comunque Un'atmosfera un po' nuovata forse Beh, mi metti mi piace Alla WC2 ragazzi Alla WC2, è alla WC2 Non ci credo, non ci credo Alla WC2, è alla WC2 Dio sì, grazie Grazie, grazie Grazie, grazie, grazie Grazie, grazie Cazzo duro Cazzo, cazzo, cazzo Cazzo duro Bellissimo, bella la presentazione Ci ho messo qualche secondo Ci ho messo qualche secondo Ma cazzo sì Allora, io non ho giocato DLC di Control In cui c'è Alan Wake Quindi non è un sequel diretto dell'uno Però io gli ho creato Ehm Ehm